Debby e Rosa si sono lasciati dopo amici. Lui devastato verissimo. Debby e Rosa si sono lasciati dopo amici. La finale della ventiesima edizione è andata in onda sabato scorso. Ma i due non hanno ancora parlato della loro storia d'amore. Non si sono ancora mostrati insieme sui social, ma ciò non vuol dire che non si siano già visti. Così come è probabile che non si siano ancora incontrati perché Debby dopo amici 2021 e si è subito messo in viaggio per l'Italia per i firmacopie. E poi ha passato quei pochi giorni di riposo con la sua famiglia, che non vedeva da tanti mesi a differenza di Rosa. Eppure, il fatto che i due non siano ancora comparsi insieme sui social aveva già messo la puce nell'orecchio a più di qualcuno. Un ulteriore indizio è arrivato oggi durante Verissimo. Nella puntata che ha ospitato i cinque finalisti, infatti, Debby aveva un'espressione triste vedendo il video con Rosa. Una reazione che in pochi si aspettavano, a giudicare da ciò che si legge su Twitter. Ma Debby e Rosa si sono mollati? Lui era devastato, ha scritto una fan. Insomma, i fan vorrebbero sapere ma da parte loro tutto tace. Non è arrivato nessun commento da parte di Rosa, attiva su Facebook e Twitter dopo i problemi con Instagram. Debby è verissimo, ha parlato di Rosa, sì, ma non col sorriso. Non sembrava un ragazzo felice e innamorato e per questo sui social tutti si sono domandati cosa stia succedendo. Anche vedendo la ballerina parlare di lui con gli occhi luminosi e innamorati non ha fatto spuntare il sorriso a Debby. Aveva gli occhi un po' lucidi, ma poi ha continuato a parlare con un filo di tristezza sul volto. Le uniche parole che ha detto sulla ballerina sono state queste. Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei. Ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta c'è stato un periodo in cui non avevo l'appoggio di nessuno se non il suo. Il mio tutto all'interno della casetta era su di lei. Ha aggiunto che si sono aiutati tanto a vicenda e che è stato proprio bello. Poi nient'altro. Tuttavia Deddy non ha detto che con Rosa è finita, né Silvia Toffanin glielo ha domandato. Magari è stata tutta colpa della timidezza? La prima intervista dopo amici potrebbe avergli giocato un brutto scherzo. In attesa di spiegazioni da parte loro, su Twitter i fan continuano a interrogarsi. Cosa è successo tra Deddy e Rosa dopo amici? Qualcuno ha fatto anche ironia sulla mancata partecipazione a Temptation Island, di cui si è vociferato di recente, in caso di rottura. Due Beautiful Thomas scopre il segreto Liam e Bill. Come e cosa farà ora? Ebbene sì, Thomas scoprirà la verità su Liam e Bill nelle prossime puntate americane di Beautiful. Le anticipazioni segnalano che il Forrester verrà a conoscenza dell'incidente che i due Spencer stanno tentando di insabbiare. Secondo le ultime indiscrezioni, pare che Thomas ascolterà una conversazione tra Hope e Liam. Il Forrester sentirà abbastanza per supporre che Liam e Bill abbiano investito Vinnie Walker, causandone la morte. Il figlio di Ridge, non solo sarà sconvolto per quanto avrà appena scoperto, ma resterà scioccato anche dal fatto che Hope è a conoscenza di tutto. Val segnalano che è la prima a venire a conoscenza della verità sull'incidente, visto che Liam non riesce a mantenere più il silenzio sulla questione. Tormentato dai sensi di colpa, lo Spencer confessa alla Logan i dettagli di quella notte tragica. Ma cosa farà Thomas dopo che avrà scoperto dell'incidente? Sarà sicuramente convinto che Liam abbia ucciso il suo migliore amico Vinnie. Attenzione, però, perché le anticipazioni americane di Beautiful hanno più volte fatto notare che Walker non perde la vita a causa dell'incidente, bensì dopo un litigio con un altro personaggio. Thomas, però, non potrà non pensare che sia Liam il colpevole della morte di Vinnie, almeno per ora. Il Forrester non correrà dalla polizia a rivelare cosa avrà appena scoperto. Continuerà a pensare che l'unica cosa importante è la felicità di Orub. Pertanto, vedendo la Logan disposta a mantenere questo segreto, non aprirà bocca. Non le farà neanche sapere che è a conoscenza di tutto. Ma, come si può già immaginare, Thomas sarà pronto a tutto e in attesa di vendicare la morte del suo migliore amico. In particolare, il Forrester punterà la sua attenzione su Bill. Prima ancora di scoprire il segreto, Thomas ha già un acceso confronto con uno Spencer, nell'azienda di quest'ultimi. Che sia per la sua lealtà nei confronti di Hope o per fare la cosa a modo suo, il Forrester non si rivolgerà alla polizia. Deciderà comunque di sfogarsi su Bill e Liam. Il suo scopo sarà probabilmente quello di mettere loro paura e angoscia. Infatti, potrebbe perseguitare i due Spencer. Forse farà in modo che lo stesso Liam riveli la verità sull'incidente alla polizia. Lo arresteranno e lui potrà riavvicinarsi a Hope. Questo per lui potrebbe essere il piano perfetto per riconquistare la Logan e allontanare Liam dalle loro vite. Non resta che attendere le prossime puntate americane per scoprire cosa accadrà a Los Angeles. 3 Il Segreto Anticipazioni Ultima puntata 28 maggio Chi muore? Misteri svelati In prima serata, venerdì 28 maggio 2021, va in onda su Canale 5 l'ultima puntata del Segreto. Il pubblico di Canale 5 è ormai giunto al gran finale, dopo l'episodio che viene trasmesso oggi. Manca davvero poco e i telespettatori italiani daranno l'addio a Puente Viglio e ai suoi abitanti. Una scelta molto apprezzata dal pubblico, che avrà modo di seguire l'ultima puntata nella prima serata di Canale 5. Ma cosa accade nel corso del finale? Le anticipazioni spagnole rivelano che Don Filiberto mette in atto un piano di vendetta contro Donna Francisca. Il prete ha appena scoperto che chi muove i fili della società degli Arcangeli è proprio la Montenegro, la quale non ha alcuna intenzione di fermarsi. Non sa che Don Filiberto sta, invece, mettendo in atto un piano che porta Puente Viglio alla distruzione, attraverso una violenta esplosione. Donna Francisca e Raimundo muoiono in questo terribile attentato. Lullo aveva espresso la sua volontà di morire, ma i suoi cari non hanno mai minimamente preso in considerazione l'idea. La Montenegro muore tra le sue braccia e, prima di morire, fa fare un giro ai telespettatori tra i ricordi del passato. Infatti, la nota Dark Lady di Puente Viglio ripercorre tutte le 12 stagioni e il pubblico avrà modo di rivedere sul piccolo schermo tutti altri volti protagonisti della Sob. Ovviamente non mancano nel flashback Peppa e Tristan, che hanno contribuito a creare il successo di questa telenovela. Francesca paga per tutti gli errori che ha commesso nella sua vita e ritrova la pace nel suo amore eterno con Raimundo. Le anticipazioni dell'ultima puntata del Segreto segnalano che c'è un finale anche per la famiglia solo Zabal, ovviamente. Dopo l'omicidio commesso da Donna Begona, la quale ha vendicato sua figlia Marta uccidendo Ramon, anche Rosa dimostra nuovamente di essere mentalmente instabile. Mette addirittura a repentaglio la vita della sua sorella più piccola, Carolina. Questo suo terribile gesto sconvolge Donna Begona, che decide di portarla con sé nella clinica psichiatrica. Qui avranno la possibilità di curarsi. Arriva il lieto fine, invece, per Marta e Adolfo. Ebbene sì, la solo Zabal ha finalmente l'opportunità di viversi serenamente il suo amore per il De los Visos. La loro storia è stata contrastata da Rosa, che sin da subito ha provato interesse nei confronti di Adolfo. La coppia fugge da Puente Viejo e inizia una nuova vita. Un momento delicato è quello riguardante Emilia. Quest'ultima tiene dentro sé un grande segreto. Sta morendo. Una grave malattia le ha lasciato poco da vivere. Intanto, arriva la pace tra la Marchesa Isabel e Donignaccio. Dopo anni trascorsi a lottare tra loro, hanno finalmente un chiarimento. A presto. . . .